Giorno 6.85 E ancora? Si capito Giorno 6.85 Ancora? Capito Con il pensiero No, quando c'è il dottore che tu c'è il dottore che lo sapevo pigliare Quindi ancora il gartonero? Ancora il gartonero, però quello che tu è giovane Quello che dà nei cani cani con la mole che sapevo mangiare La mole cittina Parliamo di mangiare, vieni La mole cittina Ehhh 180 Ehm, mambo, mambo italiano Ehm, mambo, mambo italiano Ehi Aspetta è voglia La tonina la devo azzurrire un spettacolo Di spettacoli che stai facendo sopra Cosa c'è? Se lo mandava via per Pasqua, al di qui si mette. Un anno, un anno, un anno. Un anno, un anno, un tombo. Ma dove si racconta io? E chi dice? marchi come dice Che cosa? La festa è in classe in classe. La festa è in classe Tava anni fa come torno a casa dice ma che profumo hai messo che profumo hai messo mi dice mia moglie quando torna a casa chanella numero 10 chanella no no ancora te no a voi io lo so io ho ancora io ho uso il zaghera non sai che basta il zaghera quando ti profumo io se non faccio odore di Bambu, Bambu, italiano, Bambu!